Il sindaco di Teramo su Ruzzo è sempre più isolato, lo dice il consigliere di opposizione Franco Fracassa. Guardi, non lo dico io, lo dicono i numeri dell'ultimo incontro che c'è stato a Ruzzo, di tutti i sindaci. Lui con pochissimi sindaci sono usciti e quindi dimostra sempre di più questo isolamento. Quello che a me dispiace è che questo CDA insieme all'altro CDA con il dottor Forlini hanno sempre detto la verità, hanno mostrato i conti, hanno loro fatto capire i debiti che hanno trovato, ereditati da quel PD che ha governato quell'ente per tanti anni. Adesso lo stesso partito in rappresentanza del nostro sindaco sta attaccando questo CDA che cerca in tutti i modi di recuperare questi denari. Vede, lo fa in un modo maldestro, soprattutto attaccando il personale e quel personale che viene impiegato per depurare le acque, quelle acque che lui stesso ha omesso di realizzare col corso dei michetti, non separando le acque bianche dalle acque nere. Il sindaco comunque ha detto che al di là del passato e dei problemi del ruzzo bisogna cambiare registro, altrimenti questa azienda finirà male. Guardi, questa azienda non finirà male perché è un'azienda che sta recuperando e sta recuperando bene i debiti lasciati. È un'azienda che sta mantenendo fede ai suoi principi e quella soprattutto di non inquinare, perché lei se lo ricorderà negli anni pregressi quando si andava al bagno al mare a Tortoreto, a Giulianova, al Badriati e poi si andava all'ospedale perché i depuratori non funzionavano. Questa è l'eredità che ci ha lasciato il PD. Questo CDA invece sta lavorando per questo, ha chiesto la separazione delle acque bianche e delle acque nere e il sindaco si dovrebbe vergognare perché ha realizzato un'opera pubblica senza fare questo e oggi attacca questo CDA che sta recuperando i denari ma soprattutto sta mantenendo fede in particolar modo sulla salute della gente.